Ciao a tutti, io sono il Dilandrofilo, oggi recensione dell'album in sile numero 361, Mater Dolorosa, la copertina è di Angelo Stan ed è ottima perché ricalca fedelmente le atmosfere marcate e incise che potremmo trovare all'interno di questa avventura. Guardate qui le vele che racchiudono le anime dei dannati come sono state presentate, disegnate molto bene, così come la struttura del galeone è molto proporzionata, l'unica nota, l'unico neo è questo teschio, tendenzialmente ridicolo, un pochino buffa, appare un pochino buffa questa espressione, non so, io ci ho visto una negatività simile, poi magari ad alcuni di voi non farà né caldo né freddo questo teschio, ma passando oltre, come vi dicevo, tutto sommato nel complesso la copertina si presenta davvero molto bene, qui Dylan è girato ma comunque solamente dalla sua postura si capisce già a quale grande guaio andrà incontro ad uno scontro nuovo e inedito e secondo me ancora più accentuato e profondo rispetto al primo incontro con Mater Morby e qui per concludere il giudizio sulla copertina, le mie opinioni sulla copertina, devo dire che anche il disegno nel complesso risulta in alta definizione, ecco questo è un punto che ci tengo a precisare, perché in alcune copertine di Angelo Stano avevamo notato una qualità di stampa non elevata, invece qui i DPI di stampa sono davvero molto molto buoni, quindi la copertina è fra virgolette, passatemi il termine in alta definizione. Qui in alto, novità, d'ora in poi, quando troveremo questo bollino, significherà che la storia, l'albo in questione, sarà stato approvato da Tiziano Esclavi in persona, sarà vero? Non sarà vero? Boh, misteri! I test della sceneggiatura sono di Recchione e disegni di Cavenago, di che cosa parla questa avventura? Ritorna Mater Morby più furiosa che mai, insomma Mater Morby che in questa occasione mi ha convinto particolarmente, invece il primo albo dove veniva presentato questo personaggio non mi aveva fatto troppa, insomma, non mi aveva colpito più di tanto, qui invece abbiamo una situazione tutt'altro che lineare, qui ci sarà molto dinamismo, insomma, una storia che è ricca di colpi di scena e soprattutto trova nei test e nella sceneggiatura delle note poetiche davvero inedite che l'artista, o meglio lo scrittore, riesce a sprigionare in questa occasione. Quindi Recchioni, sì, in questa occasione mi è piaciuto. Roberto Recchioni, che non sarà il mio idolo per quanto riguarda il panorama fonemettistico, ma in determinate occasioni, ripeto, riesce a, insomma, produrre un ottimo lavoro, a presentare un ottimo albo di Dylan Dog, quando vuole riesce a penetrare bene nello spirito del personaggio e strapolarne il meglio. Quindi, tante note poetiche che potremmo trovare all'interno di questa avventura. Non ho trovato particolari intrallazzi, tranne alcune occasioni dove tutta questa storia veramente molto buona cade in dei trabocchetti che la rendono un pochino vuota in alcune situazioni. Mi riferisco soprattutto, non vi voglio spoilerare, ma comunque in alcune scene che potremmo trovare dalla metà dell'albo in poi, saranno un pochino sottotono rispetto alla profondità del resto dell'albo. Qui abbiamo una grandissima citazione al numero 100 di Dylan Dog, che viene in parte non rivisitato, ma, attenzione, ampliato. Quindi, Roberto Orecchione riesce ad ampliare la nostra visione sull'album in sile numero 100, sulla storia di Dylan Dog in generale. Riesce a sperare in maniera migliore di Tiziano Sclavi. Non vorrei dire un'eresia, ma, diciamo, questa storia qui del Galeone, da dove viene, perché Dylan è a contatto con il Galeone, perché si forma questo universo parallelo quando Dylan ritrova le sue vere radici. Insomma, qui mi sembra che Orecchione abbia spiegato addirittura meglio di Tiziano Sclavi nel suo album in sile numero 100. Comunque, avremo anche un'integrazione con John Ghost, il nuovo nemico della serie. Questa integrazione non mi ha fatto impazzire. Non abbiamo, diciamo, una trama che presenta in maniera ferrata una qualche nuova azione intrapresa da John Ghost. Quindi non è che il personaggio, quando appare, va ad influire in maniera significativa nell'albo. Anzi, è solamente, diciamo, quasi una citazione o una brevissima presentazione che Recchione inserisce in questa avventura. Quindi il personaggio di John Ghost non è incisivo in quest'albo, ma comunque è gradito. Avremo poi la possibilità di conoscere dei lati quasi inediti nel carattere di Dylan, come vi dicevo, in fase di presentazione, che rimarca la sua testardaggine e riesce a scovare dei dettagli nella sua età infantile e riesce a spiegarci degli argomenti che anche per un adulto potrebbero sembrare davvero complessi. Spiegati da un bambino, spiegati da Dylan bambino, è davvero qualcosa di molto molto interessante. Dicevo, Mother Morby, la vera protagonista di questa avventura qui, avrà una caratterizzazione superiore rispetto al primo albo e poi dovrà scontrarsi anche con Morgana, la madre di Dylan, che in questo albo si fa sentire. Ecco, forse il dibattito fra Mother Morby e Morgana poteva essere rivisto, reso un pochino più realistico, ma nulla di trascendentale, va bene, così. Ma ora parliamo del clou, del, diciamo, del fulcro di questa avventura, i disegni di Cavenago, che fanno alzare il voto in maniera stratosferica. Il voto finale che avevo pensato all'inizio era anche un 9-, ma forse, vi dico forse, riusciamo a raggiungere il 10-pieno come voto finale per quest'albo grazie ai propri disegni di Gigi Cavenago, che riesce a, diciamo, trasmettere molto bene la sceneggiatura pensata da Ricchioni, ma con questo suo stile di disegno davvero particolarissimo e questa sua colorazione fantastica riesce ad assegnare dei toni inediti all'avventura, che già di per sé è molto buona di base. Quindi testa e sceneggiatura girano tendenzialmente bene, i disegni sono un valore aggiunto non di poco conto per questa avventura. Dei disegni che nella paesaggistica non sono il massimo, quindi nella paesaggistica in generale Cavenago pecca in determinati punti perché è un pochino confusionale la colorazione, quindi forse non riesce ad assegnare il giusto tono ad alcune scene, ma proprio pochissime. Dei disegni che presentano una profondità davvero elevatissima nei volti, vado a prendervi un primo piano. Nei primi piani dei volti, vedete qui l'espressività sui personaggi come è davvero eccellente. Magari vado a prendervi anche un ritratto di John Grosso che mi ha colpito particolarmente. Qui, guardate qui, anche le labbra, l'espressività, le singole zigrinature qui sul volto. Insomma, Cavenago che mi è sempre piaciuto sulle copertine del Dylan Dog, Maxwell, The Boy e finalmente lo vediamo all'opera su un albo di 98 pagine. C'è a chi piace, c'è a chi non piace. A me Cavenago piace tantissimo. Dovremo creare una nuova religione incentrata sulla venerazione di Cavenago. Per ultima nota sui disegni, paradossalmente qui non ci sono linee portanti, sono letteralmente i colori che prendono forma. Come vi posso spiegare questa mia impressione? Magari andiamo in un punto dove Dylan è qua nei temi più azzurrini, ecco forse qua dove è un pochino più chiara la situazione. Come vedete i colori sono loro a comporre l'immagine della persona piuttosto che del paesaggio, piuttosto che degli oggetti. Eccola qua! Come vedete Dylan in questo tris di vignette non è composto e prodotto da linee, ma è creato da colori. Vedete ci sono i colori che prendono forma in qualcosa di strabelliante. Non ci sono linee portanti attorno ai disegni, ma vedete è tutto, solamente il tratto pennellato che fa prendere forma al personaggio come in questo caso. Poi ci sono alcuni errori, errori vabbè è una parola grossa, ne ho trovato solo uno. I classici colpi della pistola Bodeo. Come sapete Dylan ha la pistola Bodeo del 1889, se non vado errando, che in canna tiene sei colpi. Ma qui guardate un po' quanti ne spaga. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. E' quel classicissimo errore dove tanti scrittori e sceneggiatori di Dylan Dogg si sono imbattuti purtroppo nel corso degli anni. Sono al corrente dell'esistenza di una pistola Bodeo particolare che tiene sette colpi, ma non è il caso di Dylan. Dylan ha il classico modello da sei colpi. Ultima nota sull'espressività dei personaggi, dove i colori di Cavenago riescono a fare da padrone. Sì, forse Cavenago non sarà il migliore artista in grado di ricreare e presentare il volto di Rupert Everett, ma diciamo, in questo stile di disegno, il volto di Rupert Everett e la trasposizione del volto di Rupert Everett, diciamo, assume una minima parte di colpa. Ci saranno poi anche dei piccoli riferimenti a Moonlight, perché, come sappiamo, il galeone di Dylan in principio è stato ritrovato proprio lì sotto quel mare di Moonlight, in quelle acque. Tutto sommato, dunque, un albo che consiglio di leggere, soprattutto abbastanza fuori dai canoni, però è molto, molto buono. Riesce a presentare anche una morale finale davvero spiccante e di rilievo. Ora vi farò vedere solamente alcune delle pagine a tutto schermo, fra virgolette, che possiamo trovare in quest'album, ma dovete andare a comprarlo per forza di cose. Guardate qui, solamente questo disegno da capo a piedi vale i tre ore e venti dell'album. Insomma, è inutile che vi faccia vedere ogni singolo dettaglio qui da questo video, bisogna vederlo di persona e apprezzare i singoli, diciamo, dettagli che vanno ad imprimersi nei pori della carta ed apprezzare così al meglio il disegno. Come al solito, non è la prima volta che lo dico, ma lo ripeto, vado a suonare il campanello alla Bonelli, mi farò dare le tavole di Cavenago. Dico sempre così, poi alla fine non lo faccio. Per il momento è tutto. Se questa recensione in qualche modo ti è stata utile, se ti è piaciuta, condividila dove vuoi. Iscriviti al canale YouTube del Dilan Dogofilo, importantissimo, per maniere sempre aggiornato sul personaggio di Dilan Dog. Così se ti iscrivi ti arriva la notifica ogni volta che faccio una nuova recensione. E noi ci vediamo in un prossimo video dedicato al mondo dell'indagatore dell'incubo. Tu, sì, proprio tu, pensavi che la recensione fosse finita. Eh? Volevi? Eh? Volevi! In realtà alcuni di voi mi hanno chiesto, sotto nei commenti di alcuni miei video, di fare un resoconto della situazione, visto che ormai è uscito anche l'albo del trentennale. Dilan Dogofilo, non fare un video di cinque minuti, ma fai un video riassunto su tutti gli albi usciti finora. Allora, cosa ne penso di questo... Che bello vedere tutti questi libri sul tavolo, è davvero fantastico. Voi non avete idea che impatto cromatico ho sotto i miei occhi. Comunque... Dicevo, reso conto finale su questo nuovo ciclo, non si è ancora concluso, però, insomma, adesso che è uscito l'albo del trentennale, si può tirare un po' qualche somma. Vediamo un po' cosa è successo dalla fine del 2014 fino ad oggi. Alti e bassi nella nuova gestione dei recchioni. Alcuni albi, soprattutto quelli iniziali, come questo, che era un po' uno spartiacque, che non ho ancora ben capito cosa sia esattamente. Questo, che era un albo votato solamente alla politica. E poi vediamo questo, che era un albo, dal mio punto di vista blasfemo, ma... Ok? Sono opinioni personali. Questi qua sono gli albi peggiori. Per il resto, gli albi presentati nella nuova gestione dei recchioni sono abbastanza equilibrati dal punto di vista dei recchioni, mentre, dal mio punto di vista, ci sono davvero, come vi dicevo, alti e bassi. Quindi, andiamo tendenzialmente meglio adesso. Quindi, gli ultimi albi usciti in edicola si sono, fra virgolette, comportati meglio rispetto a quelli iniziali. Quindi, del nuovo ciclo, apprezzo l'annata 2016, apprezzo un po' meno quella 2015. Nel 2014, secondo me, c'è stato un pochino un caos. Fatto sta che, in ogni modo, la nuova gestione dei recchioni è andata a spezzare completamente le linee guida dettate da Sclavi. Quindi, gli appassionati più storici come me non riusciranno mai a digerire fino in fondo questa ondata di nuovi albi, ma rimarrà più fedele a quanto scritto da Tiziano Sclavi nelle sue opere passate. Quindi, la mia opinione la sapete, ditemi la vostra. Qui sotto nei commenti abbiamo festeggiato il trentenale di Dylan Dogg e adesso questo albo fa da capolinea. Quindi, insomma, questo rimane un punto fermo finale. E questo è tutto quello che è successo nel mentre. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Grazie a tutti.